Allora, consideriamo un campo elettrico costante, linee di campo rettilinee e valore del campo elettrico uguale per ogni punto dello spazio. Queste che ho segnato in rosso verticali sono le superfici equipotenziali, cioè le superfici per cui tutti i valori del potenziale su questi punti sono costanti uguali. Adesso immaginiamo di prendere un punto e spostarci da questo punto a quest'altro. Di quanto è cambiato il potenziale nel portarci da qui a qui con uno spostamento supponiamo rettilineo delta S. La variazione di potenziale è meno E prodotto scalare con lo spostamento. Tra spostamento e campo elettrico indica un angolo alfa, per cui la differenza di potenziale nel andare da questo punto a questo punto sarà meno E per delta S per il coseno dell'angolo alfa. Ora, cerchiamo di capire il senso di questo. Possiamo vederlo in questi due modi. Primo modo, vi ho disegnato qua il campo elettrico costante, un vettore E per ogni punto dello spazio sempre uguale, sempre tutti paralleli, sempre con lo stesso verso. Andare da questo punto a questo punto è come andare prima in verticale e poi verso destra. Stiamo parlando di un campo elettrostatico, quindi questo tipo di operazione non dipende dal percorso. Ora, se mi sposto in verticale, mi muovo lungo una superficie qui potenziale, la variazione di potenziale da qui a qui è 0. Quindi la variazione di potenziale dal punto iniziale al punto finale è tutta dovuta a questo tratto. E quindi semplicemente E per delta S parallelo. E questo qui non è altro che delta S per il coseno di quest'angolo. Un altro modo di vederlo è, nello spostamento dal punto iniziale al punto finale, il campo elettrico che mi interessa è quello parallelo allo spostamento. Quindi io prendo la componente del campo elettrico parallela allo spostamento e la trovo moltiplicando il campo elettrico per il coseno di alto e poi moltiplico per delta S e quindi ho la variazione di potenziale, cioè la differenza del valore di potenziale tra il punto iniziale e il punto finale.